Si chiama Patto per Foggia, è nato da poco e guarda alle elezioni comunali di maggio. Si rivolge a tutti i partiti, senza eccezioni, ma una origine politica ce l'ha. È quella del Partito Repubblicano, cui appartiene il portavoce del Comitato, Mauro Pagano. Commercialista, 51 anni, Pagano 5 anni fa si candidò nello schieramento di centrodestra. Adesso mette sul tavolo un programma di massima, chiedendo alle forze politiche di sottoscriverlo. Alla presentazione del Comitato era presente come osservatore il candidato sindaco del centrodestra attuale, Franco Landella. Una candidatura in proprio non è affatto esclusa, anzi, Patto per Foggia potrebbe scendere in campo come lista civica. La raccolta di firme, dicono gli organizzatori, è già a buon punto. Però, se qualcuno poi offrisse un posto in qualche altra lista, beh, se ne potrebbe parlare. L'importante è rispettare certi punti, innanzitutto quelli di principio, come trasparenza, moralità e riduzione delle indennità di carica. E poi ci sono le proposte concrete, ad esempio creare una cittadella dell'innovazione e dello sviluppo, migliorare i servizi nelle circoscrizioni, dare vita ad una consulta per i cittadini e soprattutto battere moneta. Sì, Patto per Foggia vuole una moneta complementare. Nascerebbe come sussidio per indigenti, potrebbe essere spesa solo in città e gli esercenti che l'accettano potrebbero spenderla a loro volta nei locali facenti parte di un circuito convenzionato. Anche il Comune la accetterebbe, abbonando a chi la usa il 20% delle imposte. Posso comprare il latte, posso pagare una visita, posso in qualche maniera accedere a servizi, pur non avendo reddito.